Bella a tutti raga e bentornati in questo mio nuovo video Oggi continuiamo la nostra avventura in Life is Strange 2 Allora... Ok, non ci interessa... Continua Il giorno dopo Sì, è più facile Ehi, potremmo trovare una città di Milkshake Ah, sì, una città di Milkshake Continuiamo a dormire, figlio Speriamo Eh, c'hai ragione Eh, c'hai ragione Cercheremo di essere più buoni Purtroppo a volte i fratelli maggiori Sono così Non vogliono essere rotte le scatole Da quelli più piccoli Allora, finalmente una stazione di servizio Dopo tre giorni di cammino Allora Speriamo Allora Vediamo un attimino come sta la situazione Abbiamo 30 dollari Un bel po' di Gadget Mi sa che ho preparato lo zaino Un po' troppo in fretta Questa non le volevo prendere Pegna Io non volevo tenerla Ma Daniel ha insistito Vabbè Abbiamo ancora i... I presenti! Non penso che ci serviranno in queste situazioni Cellulare Batteria morta Cos'è questo? Ah Fuck, fuck, fuck Questa è opera di Daniel Sicuramente Dai, almeno Sta disegnando Quindi Scusate alcuni di venire per personalizzare il tuo zaino Vabbè Non mi interessa Ok Allora Vediamo un attimino Questa stazione di servizio Una macchina Di sicuro sarà di quelle persone lì giù Probabilmente Un po' incasinata Comunque Uccellini Eh Lo vuoi mantenere un uccellino di questo Allora Vediamo un attimino Trova qualcosa da mangiare Trova qualcosa da bere Trova una cartina del posto Ok C'è una famigliola qui Magari ci danno una mano Allora Guardiamo Manda Daniel A fare l'elemosina No dai Non siamo ridotti così I soldi li abbiamo Parliamoci Magari Ci danno un aiutino Un passaggio Non so Allora Partire subito diretti Posso chiedervi qualcosa da mangiare Io penso di no Perché Già Il papà Della famiglia Cioè il capofamiglia Ha detto Oh oh Ci rifiamo Come se magari Già fossimo Cioè Degli zingari Allora Iniziamo Buon Halloween La signorinella È Cresciuta È un ometto lui Allora Direi Chiediamo Dopo aver detto Buon Halloween Diciamo È una bella giornata Allora Abbiamo una gomma a terra No Perché magari Dopo ci chiedono Ci vogliono aiutare Quindi mettiamo Siamo in campeggio E mica tanto Abbiamo camminato Solo per tre giorni È una bella giornata È una bella giornata È una bella giornata Non sai il nome Il tuo camp È una bella giornata Non sai il nome Il tuo camp Ok Ok Siete in vacanza Oh Questa ragazzina Cosa ragazzina C'ha proprio il bronce Non è così male Che cosa c'è che non va Che cosa che non va Che cosa che non va Cattivo Mamma mia Beh guarda Io sinceramente Con la risposta Che mi ha dato Me ne andrei Brutto antipaticone Però la signora Proviamo a scroccare qualcosa Proviamo Mamma mia Quanta cattiveria Proprio una cattiveria Non si è esagerata Queste persone Ma 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 Ho bisogno di ottenere un po' di comida. Guarda le chip! Guarda, stop! Andiamo! Ciao. 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 Foto, Crisp. Ti ho promesso di ottenere uno. Hai ragione, te l'avevo promesso e te lo compro. Come si compra? Ah! Allora... Parliamo. Hey. Ciao. Buonasera. Sì. Posso aiutarti? Non sembra che sei da qui. Allora, vediamo qui vicino. Siamo in viaggio? Siamo in campeggio? Mmm... Non saprei. Siamo in campeggio. Ah! Buttiamo di nuovo siamo in campeggio. Siamo in campeggio. Sì? Di dove? Non... Non mi ricordo il nome. Non è vicino. Allora, dove sono i bambini? Beh... I genitori non sono ammessi. Oh... Oh... This is just for me and my brother. No parents allowed. By yourselves, all the way out here. Porco due. Non posso dire veniamo spesso qui perché questa non ci ho mai visto. Oh, it's no big deal. Um... Just a short field trip. We're not that far from home. Well... Didn't mean to grill you. Just making sure you're okay out here. Have a nice day. Stiamo bene, stiamo bene. Dude. I know. Non è che è andato benissimo eh. Oggi è una brutta giornata. Come check this out. What? What is it? It's a puppy. Super cute! Yeah. Super cute. Is this yours? Somebody left her down the road. If I saw who did that it would be the last time. Oh... He must be sad. What's his name? Her. Whoever takes her gets to name her. Oh... Right. Oh... Can we have the puppy? Oddio! Eh... Solo il cane ci mancava. Vabbè diciamo... Eh fammici pensare. I don't know. It's a pretty huge responsibility. Yeah. It would be so cool. Come on. Oh honey. We have to have an adult take care of her. I know. I just thought we could. I know. I want to. She's right. We can't take care of a dog right now. Eh vabbè. Niente. Allora. Guarda. Ruba. Addirittura. Ruba. 69,99€. Una tenda di questa ci farebbe comodo. Però come faccia a rubarla? Dai. Non si fanno queste cose. Non si ruba. Ah. Sta facendo cruciverbia. Hi. Che stai guardando? Oh. obsetti. Well I'm actually. Are doing research. It's uh. It's uh. No, not to you. Why? Martin? Seriously. Who's buying all these wooden bears? Six down. Oh. We do have a sale on our famous bears. Ma? 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 Di chi stai parlando Daddy? Daniel. Daniel. I'm Brody. Why are you looking at adult stock? Cose per adulti? Ma! è una madonna no, buddy who said so? never mind I'm getting carried away name's Brody I'm kind of an online traveling journalist Sean what's an online traveling journalist? just a fancy name for someone who drives around in a car writing about people and stuff there's a few websites that pay me for these papers since I know how to write nice to meet you man you traveling with your brother yeah we're on the road going south good for you the best way to learn is on the road the earlier the better well I'd love to talk and avoid work all day but I'm already up against the deadline safe travels dude thanks grazie grazie non sembra una cattiva persona questa eh molto meglio di quei signorotti che stavano lì fuori ok infatti sembra a posto e niente allora macchinetto del caffè guarda mi sono troppo nervoso per piu' pepare ok non buona la cattiva prepara due hot dog mmm non è male maccherone al formaggio guarda ruba aggiunge il cavallo quattro versi Con chi c'era questa? Allora, Daniel voleva gioco con Chris B E quindi glieli compriamo perché gliel'abbiamo promessi E' un'avventura segreta E' così? Suona intrigante Ho fatto tutti questi bambini? Oh no, non prendo nessun credito per i bambini Questo è tutto sul mio amico Non si stoppa di farlo Oh, non importa quanto mi prego Oh, credo che sono così carini Beh, buono per te, sicuramente bello che qualcuno lo fa Meno male che Daniel non c'ha Ah, che dovevamo fare? Trova qualcosa da mangiare, trova qualcosa da bere Che cosa c'è? Poi potremmo usare questo Sette di sotto Allora, guarda Stai privando Ah, io voglio vedere Ah, scusi Cazzo, ho ragione Ho ragione, ho ragione Ho ragione Eh, trovo qualcosa da mangiare Trovo qualcosa da bere Eh, l'acqua dove sta? Io non vedo l'acqua Ah, battiglia d'acqua Quattro euro e cinquanta Nego agio Panca o re Allora Allora, oh, no Non mangio la bibita Yes Allora, dobbiamo prendere qualcosa da mangiare Qualcosa da mangiare Da bere Abbiamo preso una cartina del posto Da mangiare Da mangiare io Prendere i due hot dog Sì Prendere i due hot dog Ok Allora, direi che Dovrebbe andare bene Abbiamo gli hot dog Abbiamo la bibita Ci manca la cartina Che è successo? Ah, la cartina Eccola qua Oh, almeno questo Vabbè, penso che Siamo a posto così Depplianta Adesibili Ma Daniel dove è andato? Do? Vabbè, paghiamo Porta chiavi Mostra a Daniel Oh, ci ha regalato pure il portacchial Ma che brava signora Almeno qualcuno In questo mondo Almeno qualcuno in questo mondo È cordiale Vabbè, penso che possiamo pagare Abbiamo preso tutto Trovo una cartina nel posto Trovo qualcosa da bere Trovo qualcosa da mangiare L'abbiamo preso Pagliamo Non volevamo rubare niente signora Mi ero dimenticato Allora, paghiamo Perfetto Ci siamo Abbiamo fatto tutti gli obiettivi Sacco a pelo Questo ci farebbe comodo Se dobbiamo passare sempre le notti fuori Eh, non lo so Sacco a pelo Stoviglie da campeggio Maglietta di Washington Felpa Megoglioni quanto costa E qua non ce la possiamo permettere Abbiamo appena 18 dollari Vabbè Dobbiamo arrangiarci Cosa? La strega ci sta guardando Madonna quanto è brutta Il banco Siamo ricchi Uh, che carine Trappola mangia soldi di Daniel Vorrei far giocare Daniel Come si fa a far giocare Daniel? Vabbè Proviamo Allora Hey, man Check this out Powerbairdlaw Uh, can we play? I bet it's easy to get a prize Yeah, no See all those prizes still inside? Nobody wins Except the machine Oh But hey We're the Wolf Brothers Us teach this machine a lesson Right? Yes So Who goes first? Iniziato Massimo 30 dollari Spendiamo Orr Don't grab so fast This is hard Can you try Eh Fui farcela You can do it Really? Ok Here I come powerbair Grab No Come on Oh Bullshit Oops Sorry I hate this game Eh Dai Facciamo Facciamo riprovare Vai ancora Dai che ce la fai Stavo giro Dai che ce la fai Ce l'ha fatta 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 Bravo Daniel Bravo Daniel Bravo Daniel Bravo Ah dai Andiamo fuori E i brutti infami Se ne stanno andando Mamma mia Che geni c'è Disumana proprio Quotidiano Oddio Questo quotidiano Stava proprio a vista La tua rivista locale Con notizie pensieri E culture del mondo La polsia sta cercando I sospetti Sean e Daniel Diaz La sparatoria di Seattle Scatena le proteste Eh Togliamolo di mezzo Sto giornale Perché è stata proprio a vista Questo Non mi piace Non mi piace Sta cosa Giacciaia Non si può fare niente Daniel Vatti un po' più là Ah Dobbiamo andare in bagno Daniel Entriamo insieme Giusto Prima lavare le mani E poi andiamo a mangiare Riempi la bottiglia Vabbè Acqua curate Che fai Te ne privi Ok Abbiamo una bevanda D'acqua Quindi abbiamo Una bella scelta Di bevande Perfetto 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 Allora Che possiamo fare più qua Carta igienica Appipì Devi fare appipì Devi fare appipì Dove Ne No Non è Ok 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 Ho fatto tutto nel bosco Si è accomodato Vabbè Esci Direi Che Adesso Si riti per maggiore E studiare la mappa Possiamo Tranquillamente Accomodarci Diamo giusto Un'occhiata in giro Magari Troviamo qualcosa Di interessante Forse Incomputo C'è una coltella Una motosega Una porta Quanti ce ne stanno Appunto Sai quanto pesa Sta cosa Bebicchieri Bebicchieri Monster Per animali Selvatici I'm fine I'm too young Allora Se un orso nero vi attacca Abbandonate cibo ed oggetti personali Non correte o fingete di essere morti Difendetevi vigorosamente Certo Come te Puntando la testa Con qualsiasi oggetto a vostra disposizione Se una tardona vi attacca Lanciateci un ventenne Che cazzata Ehm Ah Senti di spagnolo Non ci interessa Ok andiamo a mangiare Sì l'ho visto L'ho visto Allora Mangiati E studia la cartina Che ha detto Mangiati Mangio e studia la cartina E' tutto quello che abbiamo Oh abbiamo un botto di roba Oh Abbiamo il dog Abbiamo la bibita Abbiamo il ciocco Sì Te l'ho preso Te l'avevo promesso Le promesse vanno mantenute Non andate a mangiare gli ursi Come si chiamava quello? Mi sono dimenticato Brody mi sembra Wow That's a big map Sì Ho spero che posso leggere Ma Is this supposed to be Washington? I don't recognize anything Yeah Me neither But we have to be somewhere in there Hey I know We're here There's a gas station See? Nah No way We were near Mount Rainier yesterday But it's miles away now Let me show you where we are okay? Yeah Allora 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 Diciamo nell'episodio precedente Allora 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 Visto e considerato Che siamo verso Un distributore Allora 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 Siamo scesi Che mi ricordo Che c'era C'era il fiume Se non sbaglio Quindi In teoria C'era C'era un fiume Qui vicino Non mi ricordo C'era un fiume C'era un fiume Quindi Quindi dovremmo essere qui Non credo che siamo su una stradina secondaria Quindi penso che va bene Dovremmo essere qua Come si conferma qua Come si conferma qua C'era un fiume Ehm Definitivamente Non c'era Cosa Siamo qua Ah Siamo qua Ok Sì 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 Can we go there tonight Are you kidding It's way too far You want to walk a whole week again Oh But it looks cool Hold on I'll find where we can go Hey kids Looks like you're out camping Huh? Oh Yeah Just Going over trails and stuff Seems dangerous to be out here all alone But maybe you're the ones who need to be watched Huh? What do you mean We just Hope you paid for all that We don't tolerate joblifters Uh Sir We paid for this Ah Don't We paid for this Well let's go inside You can show us what you bought Uh No Thanks We Have to go Nope You're going inside Don't make this worse for yourself kid Or I will Allora Ho un altro Attacco a brighe Non vorrei farlo Scappare Parlare Ma al finale Noi non abbiamo fatto niente di mare Quindi Perché scappare? Allora L'abbiamo pagata tutta Quindi non abbiamo nulla da Da rinproverarci Se ci porta dentro La signora dirà che abbiamo pagato tutto Parla Ma 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 Questo è pazzo Ma siamo seri? Cioè Ha picchiato due ragazzini Ho appena catturato un paio di soggettivi che potrebbero interessarmi Ma Ma non abbiamo fatto niente Fine Grazie What the fuck Where am I? Non abbiamo fatto niente Questo è pazzo Oh shit Daniel No 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 madonna Speriamo che Daniel sa bene Viene a questa altra strontanza Così la devo chiamare Ma se sei innocente Ma se sei innocente Più che altro Te ne rendi conto? Te ne rendi conto? Te ne rendi conto? Cosa? Cosa? Allora cazzo Ma questo non sta bene con la testa Perchè I'm sure the local police'll vouch for me over a thug like you. Where's my brother? Wish I knew. A little shit took off. I'll find him. Don't worry. If you touch him... You think I'd hurt a little boy? I guess you didn't have any second thoughts about leading him out in the middle of nowhere, though. That's real safe for a little kid. If he's lucky, he won't end up like his criminal big brother. Just let me go. Please. You're the reason we need to build that wall. Hold tight. I'm going to go get your brother. Ma questo è scemo serio, ragazzi. Shit. Bastard turn the lights off. Fuck. Provo a rompere se manetta. It's only plastic. Fuck. Shit. Mannaya, la peppina, mannaia. Allora, porto del magazzino. Yeah, that's what I thought. I'm going to use. Okay. Che possiamo fare? Guarda, finestra dell'ufficio. Daniel deve essere scared shitless. Non posso lasciarlo fuori. Il computer che ce faccio col computer? Niente. Ok, ci possiamo spostare. No, non ci fa spostare. Tubo di cartone. Spingi. Spingi. Vediamo. Ah, ok. E ne sta in va il computer. Allora. Spingi. Foto di mano. Spingi. Ok. Dai, un calcio alla mensola. Proviamo. Eh, che ce ne facciamo di sto orso? Eh? Where are you? Danny? Daniel? I'm right here. Are you okay? I, I, I think so. That old guy chased me into the woods. But, I, I think I lost him. Ah, meno male, però sei in pericolo, tesoro. Hey, enano. You're doing great. He totally fooled them. Thanks to you. We have a chance of getting out of here. Yeah? Yeah. We got a hurry, though. He called the cops on us. Chiamato la polizia. Allora, vediamo. Eh, Daniel, provo a romperla. Can you try and open this vent? Yes. Help me. It hurts. Ha, si è fatto male? Non ti preoccupi. Vi rispondiamo qualcosa. Porta sul retro. Hey, pensi che puoi aprire la porta back? Non lo so. Grazie, è chiusa. Prova ad aprire la finestra. Magari riesci ad entrare dalla finestra. Andai alla peppina, mamma mia. Ah, le chiave, guarda. Eh, ma come ci arriviamo? Allora, qui c'è un tubo, quindi potremmo il matambulo. Rompo. Right. I need something to break this shit. Okay, Daniel. I see some keys, but I can't reach them. Maybe I can get them if I can pry this pipe off the wall. Can you find some kind of tool out there? I don't know where one is. Giusto, c'era la lima sul banco da lavoro, dove abbiamo visto che stavano facendo gli orsetti. Certo. Quando giocate questi giochi, ragazzi, cercate sempre ovunque. Cioè, guardatevi sempre attorno. Qualsiasi cosa può essere utile. E cercate di ricordarvi quante più cose possibili. Dai, Daniel, dai. Prima che viene questo. Okay. Allora, quindi... Adesso penso che possiamo fare qualcosa qui. Allora, prima di direttamente il click. Perfetto. Buon lavoro, bro. Ah, ma non ci siamo liberati. Che pensavo avessi spaccato quelle manette di plastica lì? Allora, non ti sento, Sean. Ah, ma le chiavi, le chiavi, le chiavi, le aggiungi. Dai che ce la fai, dai che ce la fai! Come on, you mother! Perfetto! E mo' come gliele passiamo? Allora, accogli. Per il condotto. Vuoi lo faccio? Dai, Daniel, dai. Puoi. Allora, gu�. Ciao, Daniel, dai. Oh, non! Sì! Sean! Bravissimo! Oh, Dio! Mi sono davvero assicurata! Cosa succede con il tuo occhio? Tuo bambino accaduto. Ok. Dobbiamo ridurre questo. Cosa ci sono? Dio, sei una roccia. Hai visto questo? No. Ok. Invisibile. Sì, sei. Ok. Ora dobbiamo prendere le mie cose. E andiamo. E andiamo! Sean! Daniel? Ma? Che succede? Cosa hai fatto? Cosa hai fatto? Non lo so. Non lo so. Non lo so cosa succede. Ok. Tu sei sicuro. Bell. Ma è successo un casino qua. Ruba l'attrezzatura da campeggio. Guarda, io me la prenderei sinceramente. Sto bastardo ci troviamo in questa situazione. Magari ci può far comodo. Io la prenderei. Sto bastardo. Tu f***o piccola piccola. Tu e il tuo abbraccio. Sì. 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 E ruba. Oddio. Non sarebbe proprio un buon esempio per il bambino. Però... Visto che è come ci ha trattato. È una difesa. Sì. 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 Sean. Che stai facendo? Daniel. Sì. 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 C'è una macchina. Ma... Ma... C'è la ragazza di prima. Aiutaci ti prego. Aiutaci. 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 Ok? Non si sembra ok. E' un uomo. Alla stazione gas. È un po' di freddo. Mi ha chiamato in suo posto. Svegli. No. Non più. Io credo. Ok? È un po' di freddo. In me. Sì. 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 Siamo salvi. Sì. Sì. Noi. Non puoi dire che stai pagando una piazza di giorno. Sì. Noi. Sì. Lo so. Sì. Noi. 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 Sì, ci sono più piedoni che messicani, siamo sempre stati nella stessa casa Sì, ci sono stati solo in un paio la mia vita, è un pochino Sì, sei un pochino, hai tempo, è quello che è molto bello per il viaggio, ci rende una perspectiva A volte, magari troppo Grazie mille. Non lo faccio farlo, piccolo ragazzo. Tu sarai trovato alcune persone incredibili. Ma? 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 Si è fregato il cane! Cosa? Abbiamo salvato! Siamo eroi! Si è fregato il cane, ragazzi. Eh, vabbè, dai. Sì, credo che siamo. Quindi... Quale sia il nome del suo? Ehi, il tuo cuore. La tua scelta. Oh, bello! Ehi, guarda. Ehm... Mmm... Come se... Un muschetto. Un muschetto. E' assomiglia a un funghetto? Eh, vabbè, mi piace, dai, il funghetto. Sì, è abbastanza cool. Però per pensarci bene, appunto, ecco, stavo per dirlo. E' una femmina. Ok, un muschetto è, allora. Ehm... Oh, sì! Grazie, big brother. Vabbè? Muschetto? Tu non è il migliore nome mai. Muschetto. Muschetto. Allora, cos'è che fai esattamente ce l'ha detto, che lui postava degli annunci su internet, quindi hai viaggiato molto. Certo? 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 Se l'ho fatto dopo la scuola... E non ho mai guardato. Ora scrivo storie per le zine e le siti, per i podcast, per i protesti. E ho cercato di cambiare positive. Eh, comunque... Wow. Quindi sei tutto politico. Tutto è politico, Sean. Allora, come ti guadagni da vivere, ce l'ha detto. Non siamo coglioni. Sempre con gli annunci, quindi... Vai in giro da solo, quindi non ti senti mai da solo. Sono quello che... E non ti senti mai davvero, bene? C'è una grande differenza tra solo e solo. Si. E probabilmente hai da toccato molta gente qui. C'è proprio. La parte non vediata della America. Hmm. Ehi, no matter what, I just try not to get cynical. Otherwise, I'd be like my family. End of the day, we have to watch out for each other, right? Giusto. Yeah, you didn't watch out for us. Thank you. Seriously. I'm just a good person, right? I hope you don't realize something bad. But, right, you always have the right to sleep in cars. Yeah, I'm afraid to do the same. I won't take it personally. What about you? Are you okay to drive? Oh, yeah. This is my favorite time to drive. Traveling by night is kind of... mysterious. Oh, yeah. E vabbè, let's let it go on a dormitina. Ba-ba-ba-ba-ra-bam! Si... Grazie a tutti.